buongiorno a tutti buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti all'oraio costi capelli da punk sono michele 3.146 e oggi giochiamo con formula 1 freddo formula 1 30 34 il cavetto il cavetto sì ok vai dai ottimo forza forza andiamo andiamo dai dai ok 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 Siamo arrivati, DRS è arrivato. Siamo arrivati, siamo arrivati. Siamo arrivati, Siamo arrivati. No, è un regalo. Non lo regala. Ma non ti dovete essere arrivati. Un regalo. Oh, per favore. un po' un po' un po' un po' un po' un po' e tocciamo di rambetagna senza di vittor martin o la caca o sul o Grazie. Domenica di gara qui a Silverstone. Le monoposto sono quasi pronte, quindi andiamo a raggiungerle in pista per l'inizio della gara. Situato 8 chilometri da Toaster, il Tempio dell'Automobilismo Britannico comprende 18 curve lungo 5,7 chilometri di circuito. Silverstone ha subito diverse modifiche nel corso della sua storia e ora il rettilineo di partenza porta direttamente alla api, la prima curva destra da affrontare in velocità. Resiste la celebre serpentina che segue la decima curva, la cosiddetta Maggons. E ora analizziamo la griglia di partenza. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Orata. Ah, non è il formulo 1, è il formulo 2 questo, va bene, si vuole che dà l'avvertone. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Va bene. Ragazzi. La live è finita. Ci sentiamo piu' là. dopo forse stasera. La ricetta. 31946. Una pulitaarriveolistic. Gamestop. ciao ciao